Ho fatto un grandissimo lavoro, sono molto contento della squadra. Io ho parlato nell'intervallo che non si può sempre rimanere nelle stesse posizioni, che è una grande cosa, però un campionato di karate, squadra unita, noi abbiamo creduto fino alla fine, lottato, soggetto, nel fine giochiamo meglio di loro, ma l'anno scorso potevo capirlo, quest'anno no. La prestazione a Brescia fuori, ognuno ha fatto autocritica, ognuno di noi abbiamo detto durante tutta la settimana, adesso vogliamo veramente dimostrare che siamo una squadra che assolutamente ha fatto una buonissima gara. Secondo me i primi 30 minuti noi abbiamo soltanto molto bene, poi facciamo un piccolo errore, loro colpiscono subito. Ho detto prima che hanno fatto due settimane di lavoro, il migliore lavoro che hanno fatto in tutto l'anno, poi viene domenica e con oggi facciamo proprio poco, niente. Sì, va molto bene, abbiamo fatto una bella partita. È più pericoloso quando noi abbiamo la palla, sembra quasi, è quando l'avversario ha punizione, la dobbiamo migliorare per forza perché non vincere, sugando bene, marcando tre gol, è dura, è troppo dura. Grazie a tutti.